A Guato in Congo è pratese il sopravvissuto alla sparatoria, era sul convoglio con l'ambasciatore il carabiniere uccisi. Il Vescovo Nerbini incontra le corali parrocchiali su TV Prato, diretta mercoledì sera dal Duomo. Covid, tasso di positivi in calo dopo l'impennata di ieri, 86 nuovi casi a Prato. San Giusto e residenti dell'ex villaggio Gescal chiedono l'intervento del comune per la riqualificazione della zona. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Come avete sentito è ricoverato sotto shock ma senza ferite. Rocco Leone, pratese di 56 anni e funzionario italiano del World Food Program, è sopravvissuto alla Guato in Congo in cui hanno trovato la morte l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese. Viaggiavano su un convoglio ONU quando sono stati sorpresi da alcuni colpi di Kalashnikov in aria e aggrediti da un gruppo di assalitori. Sgomenti tanti conoscenti amici pratesi di Rocco Leone, la cui moglie risiede a Firenze. Studente del liceo classico, Leone è stato per tanti anni scout nella GESCI Prato 1. Dopo la laurea in matematica ha intrapreso la carriera internazionale e lavora al progetto dell'ONU che punta a mettere fine alla fame nel mondo, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. Nuovo appuntamento del Vescovo Nerbini in diretta su TV Prato dopo l'incontro con i laici è il turno dei cori parrocchiali. L'appuntamento è per domani sera alle 20.45 ma vediamo insieme di che cosa si tratta. Dopo l'incontro con i laici impegnati in parrocchia, questa volta il Vescovo Nerbini sarà in dialogo con i direttori, i cantori e i musicisti dei cori parrocchiali. L'appuntamento è per mercoledì 24 febbraio con inizio alle ore 20.45 al termine di una edizione ridotta del telegiornale della sera. L'obiettivo dell'incontro, spiega Nerbini, è quello di aiutare i tanti cori che animano le messe in parrocchia ad armonizzare il proprio repertorio alla liturgia. La realtà delle corali nelle parrocchie è molto diffusa e rappresenta una ricchezza per le comunità sia come impegno personale sia come elemento che impreziosisce e rende più bella una celebrazione. Allo stesso tempo il canto non è un mero elemento ornamentale ma parte necessaria e integrante della liturgia solenne, come scrive la CEI nel testo di presentazione del nuovo messale romano pubblicato pochi mesi fa. Nella nuova edizione infatti c'è molto spazio alla musica e in molte parti sono stati inseriti dei pentagrammi per accompagnare le parole pronunciate dal sacerdote o dai fedeli. Mercoledì sera il Vescovo darà consigli e farà esempi sull'utilizzo della musica nella liturgia domenicale. Ospite dell'incontro sarà Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Roma e apprezzato compositori di brani di musica sacra. In cattedrale saranno presenti i rappresentanti dei cori parrocchiali pratesi e chi vuole potrà intervenire in diretta via whatsapp o sms al numero 331-1888-676 oppure scrivendo un commento al post della diretta streaming in onda sulle pagine facebook di tv prato e della diocesi di prato. E adesso il consueto aggiornamento sull'andamento dell'epidemia sono 824 i nuovi casi di positività al covid registrati oggi in Toscana su 19.725 test con un tasso di nuovi positivi del 4,18%. Il dato dei nuovi casi è più basso rispetto a ieri erano infatti 911 a fronte di un aumento di quasi 9.000 test con un tasso di positivi che scende di oltre 4 punti percentuali. A Prato e Provincia nuovi contagi sono 86 in calo rispetto a ieri e per fortuna nessun decesso. A livello regionale invece si contano oltre 20 vittime, altre 20 vittime del covid. La cronaca operazione congiunta tra le polizie municipali di Roma, Napoli e Montemurlo che ha consentito di scoprire una fabbrica situata a Montemurlo che avrebbe prodotto e distribuito 500 tonnellate all'anno di sciopper fuori legge. La ditta in piena attività è composta di sei impianti di lavorazione di diverse tipologie di sacchetti di materiale plastico che non sarebbero conformi alle certificazioni di legge. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità anche in materia di emissioni di inquinanti. Il titolare, un cittadino cinese, è stato denunciato e multato con una sanzione pari a 5 mila euro per ciascuna vendita effettuata. Diverse le tonnellate di sacchetti irregolari sequestrate. Si chiama Casa Francesco ed è la struttura della Diocesi di Prato che dà l'opportunità ai giovani di crescere in condivisione. Un'esperienza di comunità e di fraternità vissuta per due anni da quattro giovani e il progetto prosegue. Ce ne parla Marco Manzo. Lo spunto è stato il documento finale del Sinodo dei Giovani. Poi da lì il passo è stato abbastanza breve e Casa Francesco è diventata presto realtà. Uno spazio messo a disposizione dalla Diocesi di Prato per i giovani con l'obiettivo di fargli vivere esperienze di comunità per accompagnarli nel percorso verso la vita da adulti. La struttura si trova a fianco dell'oratorio di Sant'Anna gestito da Corrado Caiano e dalla moglie Sara. È nata diciamo qualche tempo fa, un po' più di due anni fa, quando tra le mani c'è capitato il documento finale del Sinodo dei Giovani detto da Papa Francesco. Uno dei punti che ci ha colpito di più era questo capitoletto al 162 che diceva che le diocesi, le parrocchie, gli oratori avrebbero dovuto creare degli spazi per far sì che i ragazzi vivessero in un clima di fraternità, delle esperienze di comunità che li portasse poi a creare un loro percorso di maturazione alla vita adulta. Allora ci siamo confrontati un po' con i volontari degli oratori, con gli amici e abbiamo condiviso anche con il Vescovo di allora Franco questa necessità di proporre ai ragazzi uno spazio dove poter vivere tra di loro e far sì che la vita quotidiana, il servizio e i momenti di preghiera potessero trovare un'unica soluzione. Al progetto hanno preso parte quattro giovani pratesi tra 25 e 26 anni, Luca, Martina, Cristina e Francesca che per due anni hanno condiviso momenti di spiritualità, formazione e vita comune. Sicuramente è un'esperienza che ci ha aiutato ad uscire dal contesto familiare e anche a imparare quindi a vivere da soli e riorganizzare anche il proprio tempo in funzione di tutto quello che poi comporta il vivere in maniera autonoma. L'esperienza è stata molto positiva, quello che mi porto con me è il fatto di essere cresciuta a livello, proprio come persona, prendere consapevolezza di cosa vuol dire portare avanti una casa, quindi le difficoltà e i compiti che questo comporta. È anche un momento in cui puoi stare più a contatto con te stesso, quindi scoprire il tuo carattere forse un pochino meglio, quindi sia pregi che i propri difetti e limiti e lavorare su questi. Un'esperienza che quattro ragazzi rifarebbero e che consigliano ai propri coetanei. Perché si possono conoscere persone nuove, perché si esce da questa esperienza più grandi, più autosufficienti e assolutamente con una marcia in più per affrontare il futuro. A maggio l'esperienza dei quattro ragazzi si concluderà e se ne aprirà un'altra destinata a 5, 6 giovani tra i 19 e i 29 anni. Sul sito della Diocesi di Prato si possono reperire tutte le informazioni e i moduli per la domanda. L'equipe educativa dopo un colloquio con i ragazzi e la loro famiglia sceglierà poi i candidati più adatti per l'esperienza. Villaggio Gesca, le residenti chiedono al Comune un intervento per la riqualificazione dell'area. Interrogazione del Movimento 5 Stelle per capire se gli interventi di manutenzione delle aree comuni delle ex case popolari, oggi in cattivo stato, siano di competenza dell'amministrazione comunale. Sentiamo. Una petizione per chiedere al Comune maggiore attenzione e interventi per riqualificare la zona del villaggio Gescal. La stanno preparando i residenti di Via Gerani, Via delle Gardenie e parti di Via San Giusto e Via Reggiana che lamentano situazioni di degrado e spaccio nel quartiere. Con la sua architettura a blocchi aperti ed ampie zone verdi e di socializzazione, il villaggio Gescal, fin dagli anni 60, è stato un laboratorio di integrazione per tante famiglie che da tutta Italia venivano a Prato per cercare lavoro. Le case popolari, nel corso degli anni, sono state in buona parte riscattate dagli inquilini ma è rimasto l'annoso problema della manutenzione delle parti comuni. Quando c'ero io e il ragazzino c'erano le panchine tutti intorno a questi muri, chiaramente con il tempo si sono spaccate tutte e nessuno ha mai fatto manutenzione. Qui c'è un problema di manutenzione. Questo villaggio è stato lasciato così allo sbandò per conto suo, senza manutenzione di nessun tipo. I vialetti e le corti sono in preda al degrado, tracciamento che si sbriciola, ferri arroggeniti, asfalto deteriorato e illuminazione non più funzionante. Ma non è chiaro chi tra il comune e i condomini debba farsi carico di questi interventi di manutenzione. L'illuminazione su quattro non ne funziona una. Se che la sera è un problema andare alle macchine oppure aprire il portone di casa perché non si può camminare, è proprio buio. Sua madre è non vedente, qui ci sono diverse situazioni in cui la pavimentazione è sconnessa. Molto pericolosa. Però io ho chiamato qualche anno fa per fargli venire a vedere, sono venuti e mi hanno detto che non aspettava loro. Chiamai l'alia a suo tempo, mi hanno detto che non aspettava loro, però secondo me si sono confusi perché questo qui è chiaramente del comune, è comunale. Hanno fatto lì, hanno piantato degli alberi di là e non hanno messo neanche una panchina. Sarebbe bene e opportuno che ci fosse una giusta ripartizione su quelle che sono le cose da fare fra noi e il comune per ridare prima di tutto un'immagine migliore del quartiere a beneficio sia dei cittadini che ci abitano e a beneficio anche del comune stesso. A raccogliere le istanze dei cittadini dell'ex villaggio Gescal di San Giusto è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello, che ha presentato all'amministrazione comunale un'interrogazione per chiedere chiarimenti e sapere a chi competa la riqualificazione dei parcheggi, dei vialetti e passaggi interni e dell'illuminazione della zona. Con questa interrogazione abbiamo portato quindi nelle sedi istituzionali una richiesta che da tanti anni stanno facendo i cittadini che pagano le tasse e hanno diritto ad avere delle risposte e l'abbiamo trasferito dalle corti di questo villaggio, così si chiamava un tempo, nelle sedi istituzionali e quindi gli uffici dell'amministrazione comunale dovranno darci una risposta. Si stavano recando alla postazione per la caccia al cervo con una carabina con il colpo in canna e senza sicura non curanti del pericolo per se stessi e per l'incolumità di eventuali passanti. I due cacciatori sono stati però colti in fragranza dagli agenti della Polizia Provinciale all'interno di un autoveicolo lungo la via comunale di Albiano a Montemurlo. Gli agenti hanno trovato una carabina munita di ottica di puntamento, carica con il colpo in canna e altri due colpi nel caricatore senza sicura e pronta all'uso. L'arma è stata sequestrata insieme alle munizioni, mentre i due cacciatori sono stati denunciati per trasporto di arma carica all'interno di un veicolo e sono stati sanzionati per 400 euro ciascuno. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Il Prato torna in campo domani per la diciannovesima giornata del campionato di serie di turno infrasettimanale che vede i lanieri impegnati sul campo del fanalino di coda Corticella. Ce ne parla Massimiliano Masi. Turno infrasettimanale per il campionato di serie di girone D. Nella seconda giornata del girone di ritorno il Prato sarà impegnato domani con inizio alle ore 14.30 in casa al campo sportivo Adonelli di Montemurlo contro il fanalino di coda Corticella. Una partita sulla carta agevole contro i bolognesi vera cenerentola del girone con il Prato deciso a riscattare la pesante sconfitta patita sul campo del Fiorenzuolo. Naturalmente c'è il rammarico come in tutti noi ragazzi per la partita di sabato, però abbiamo l'opportunità mercoledì di riscendere in campo e quindi cerchiamo di correggere gli errori di essere più cattivi sotto porta e di prenderci la vittoria mercoledì. Il tecnico Aldo Firicano per la sfida con il Corticella dovrà rinunciare a Tomi ancora fermato dal Covid oltre a Gentili, Cecchi, Cellini e Napoli tutti ai box per problemi muscolari. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo il nuovo tecnico laniero Aldo Firicano dovrebbe proporre. Nannelli in porta, difesa con Masini e Fremura esterni, mentre Giampa e Tognarelli formeranno la coppia centrale. A centrocampo Spinosa, Calamai e Minardi con Sanat schierato a ridosso delle due punte, Tavano e Falchini. Il Prato parte con l'obiettivo di centrare i tre punti per mantenere accesa la fiammella della speranza per poter riagganziare le zone nobili della classifica. Sì, sulla carta è così, ma a prescindere dall'avversario ora dobbiamo scendere in campo con l'idea di dover battere per forza di cose chiunque e quindi dovremmo scendere con questa mentalità. Sarà un Prato alla ricerca della prima vittoria nella gestione firicano, ma più che altro alla ricerca di se stesso. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala metro del Consorzio Lamma. Iniziamo con il vedere la situazione che ci mostra in questo momento il satellite. Vediamo come gran parte dell'Europa si sgombra da nubi per la presenza di un vasto campo di alta pressione. Una depressione che ieri era sulla Spagna si è spostata verso sud, si trova sull'Algeria, ancora sospinge una certa nubosità sulla Sardegna o comunque sul Mediterraneo occidentale, ma è destinata ad andare ancora verso sud e ad abbandonare la nostra scena. Andiamo a vedere quello che succederà nella giornata di oggi. Poco da dire, un cielo sereno, poco nuvoloso, venti da sud-sud-est deboli, con qualche rinforzo sulla costa. Temperature massime sempre intorno ai 16-20 gradi, massime che si raggiungeranno più che altro sulle zone di pianura dell'interno, con valori che sono 7-8 gradi sopra la media del periodo. Andiamo a vedere quello che succederà domani. Poco cambia, ancora prevalenza di sole, qualche foschia, qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino, come qualche modesto addensamento di nubi basse, che però entrambe si dissolveranno con il passare delle ore. Il cielo sarà sereno ovunque nel pomeriggio, con venti deboli di maestrale e temperature domani nei valori massimi stazionari o in leggero aumento, con punte fino a 20-21 gradi, sulle località di pianura dell'interno. Bene, con questo direi che è tutto. Ed è tutto anche per noi. Il telegiornale termina qui. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20 e 30. Vi ricordiamo infine alle 17 in diretta dal Duomo di Prato la recita del rosario e a seguire la Santa Messa. Grazie per averci seguito e arrivederci.